ETI PACHIMA 2022, oggi con Riccardo Cavanna, Presidente di Cavanna Riccardo, molto felice di conoscerti te in ETI PACHIMA Sicuramente siamo qui di nuovo, siamo tornati al trade show, siamo tornati sul campo, siamo tornati a incontrare il cliente face-to-face Vedo che hai un stand molto bello, che è l'idea dietro la stagione di questo stand? Vogliamo dare l'idea del pasto, del presente e del futuro Per il pasto, siamo una company 62 anni, quindi stiamo raccontando la storia della nostra company ma anche del flow pack, del design del packaging e dell'industria Stiamo mostrando il flow pack molto vecchio, che è venuto dal 1963 Stiamo molto orgoglioso della nostra identità culturale e della storia Ma, ovviamente, dobbiamo pensare del presente e del futuro Ovviamente, hai alcuni nuovi anni a questo stand? Sì, stiamo presentando il 05 BMF Il MoxMotion High-Speed Flow Packer è able to run up to 300 packages per minuto È un'interessante macchina dedicata per la health care e pharma Il MoxMotion High-Speed Flow Packer 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 e SIT. E, ultimamente, il servizio aggiunto di valutazione, come la DIGITAL TWIN e il nostro programma simulare, che si può simulare una linea completa con il packaging primario e secondario e dare ai clienti la migliore soluzione e la migliore OE, e evitare di offrire ingegneria di overload. Siamo in l'industria 4.0 era, ovviamente. Siamo in l'industria 4.0 era. Riccardo, queste sono le ultime ore del primo giorno a Tipakima. Quale è la tua opinione? È estremamente positiva. Sono molto sorpreso, inoltre il Covid, la guerra e tutte le grandi problemi che abbiamo messo durante la preparazione. Il primo giorno è stato molto successivo. 80% dei clienti sono venuti dall'esterno, e questo mi sorprende. La mia esperienza, a vedere nei prossimi giorni, è molto alta, perché abbiamo già messo molti mesi, alcuni clienti sono venuti e, in particolare, molto buoni progetti sul tavolo. Quindi, grazie a Pakema, perché è sempre una buona scelta di essere qui. Sì, d'accordo. In realtà è un primo giorno molto spartoloso, devo dire. Quindi, le prossime esibizioni che Cavanna stanno spiegando? Sicuramente, in Chicago, Pakexpo, Fistpol, in Brazil, e Galf Food Manufacturing, in Dubai. E, ovviamente, l'anno prossimo giorno, Interpac. Sì, d'accordo. Quindi, grazie a Riccardo Cavanna, grazie a Cavanna, e ci vediamo a Galf Food Manufacturing. Grazie a tutti, grazie a Sonia. È sempre un piaccio.